Musica Morto a Roma Fabrizio Frizzi aveva 60 anni dopo il malore di ottobre era tornato in televisione, il cordoglio di Mattarella, domani camera ardente in Rai, funerali mercoledì In questo momento con Fabrizio che è morto, che è andato via, anche noi abbiamo un lutto anche la nostra famiglia, la famiglia virtuale, ha patito un lutto grande